Sì, abbiamo fatto un buon primo set, soprattutto in battuta, siamo riusciti a sbagliare poco, a mettere loro in difficoltà e forse era un po' questa la chiave della partita, poi è chiaro che tenere livelli di battuta ottimi per tutta la partita è molto difficile contro di loro, perché sono una squadra fortissima, quindi noi forse potevamo fare qualcosina di più magari cercare di aiutarci su qualche situazione e magari qualcosina in più si sarebbe potuto fare però prendiamo le cose positive della partita e proviamo ad allenarci adesso due o tre giorni prima di partire per Castellana che sarà un'altra partita chiave, noi ovviamente ci saranno poche squadre che faranno punti contro Vibo questa è la verità, loro sono una squadra attrezzata per salire quindi è inutile nascondersi però noi daremo il 100% per il proseguo della stagione e pensiamo a Castellana adesso